Molti di voi avranno saputo che dopo anni di assenza l'anime di Millie un giorno dopo l'altro è ritornato su Italia 1 la mattina alle 7.30. Di Millie ho parlato ampiamente in due video, uno incentrato sulla storia dell'anime e un altro che spiega nel dettaglio la storia del manga che è molto più intricata. Oggi invece volevo approfondire una questione che sembra essere il filo conduttore della storia del manga e cioè chi è davvero il principe di Millie? Una domanda che il lettore è portato a farsi per tutta la storia e fino all'ultimo volume. Ma partiamo dall'inizio. Il manga Lady arriva nel 1987 ed è palesemente ispirato a un manga molto più datato, quello di Candy Candy che risale al 1975. In tanti certamente avranno notato che le storie di Candy e Millie sono molto simili. Salta agli occhi la somiglianza dei pestiferi Mary e Thomas con Iris e Neil e anche il sogno di diventare Lady è quello che un po' accompagna Candy nella prima parte della storia fino alla sua scelta di abbandonare la St. Paul School. Nel manga che racconta le vicende di Lynn che in questo video chiamerò Millie usando il nome dell'adattamento italiano le somiglianze diventano molto evidenti soprattutto per quella confusione amorosa che si crea fin da piccola in Millie avendo a che fare con due fratelli molto belli e avvenenti Arthur e Edward. Nel manga di Candy la piccola protagonista all'età di sei anni faceva il suo incontro con il principe della collina che poi sette anni dopo confonderà per un momento con il dolce gentile Anthony. In realtà il principe della collina era Albert Andrew zio di Anthony e per questo i due si somigliavano così tanto. Nel manga di Millie la dinamica è ovviamente diversa ma fino alla fine della storia Millie apparirà molto confusa convinta che il suo principe sarà sempre e soltanto Arthur il maggiore dei fratelli Brighton. Millie profondamente odiata dalla baronessa Magdalene a un certo punto decide di far ritorno in Giappone dai suoi nonni materni e confida questo segreto alla cavalla Alexandra per poi addormentarsi nella stalla. In questo momento della nostra storia Millie ha circa sei anni. A un certo punto entra un ragazzo nella stalla che dà un casto bacio alla piccola Millie che avverte quel tocco nel dormiveglia. Quel ragazzo è Edward che esce subito dalla stalla e pochi attimi dopo è Arthur a entrare nella stalla ed è la persona che la piccola effettivamente vede al suo risveglio. Per tutta la storia Millie resterà nella convinzione che quel bacio le sia stato dato da Arthur. Quel ragazzo che l'ha baciata viene da lei battezzato in qualche modo principe. E anche qui notate le analogie con Candy la cui storia tra le tante cose è anche animata dalla ricerca del famoso principe della collina che lei ritroverà solo alla fine. Dunque per quasi tutta la storia Millie è effettivamente innamorata di Arthur. Non che lei non si accorga anche di Edward di quanto sia bello e di quanto lui la capisca e le sappia stare accanto ma Arthur è sempre nei suoi pensieri. Dal canto suo Arthur dal mio personale punto di vista prova qualcosa per Millie. Lo vediamo in alcune tavole pensare tra sé di essere invidioso di Edward perché ha già rivisto Millie in Giappone ma è come se Arthur in questa fase della storia non fosse ancora pronto a decidere perché Millie è ancora troppo piccola. Ha solo 13 anni in quel momento. Facciamo allora un po' di chiarezza. Arthur tiene molto sia a Sara che a Millie. Dal punto di vista prettamente amoroso sembra che in lui stia per maturare qualcosa nei confronti della minore delle sorelle ma questo sentimento viene in qualche modo frenato dal precipitare degli eventi che lo costringeranno ad assumere la decisione della maturità. Peraltro nel manga si creano comunque diverse situazioni romantiche tra i due. Millie che rivede Arthur al chiaro di luna in groppo al suo cavallo, i due che fanno una cavalcata insieme, alcuni sguardi particolarmente intensi. Intanto Edward si dichiara a Millie e Millie candidamente gli dice che è innamorata di Arthur cioè glielo dice proprio in faccia. Allora Edward si decide ad affrontare il fratello dicendogli che deve mettere in chiaro i suoi sentimenti e decidere se ricambiare o meno l'amore di Millie. Sara però è sempre più cagionevole di salute, sempre più eterea e sembra che stia a momenti per lasciare questo mondo. Riesce comunque a debuttare in società anche perché si rianima miracolosamente ogni volta che c'è Arthur accanto a lei e Millie in quel momento decide di rinunciare ad Arthur e molto chiaramente dice soffocherò i miei sentimenti nel profondo del mio cuore. Arthur invece dopo il debutto di Sara propone anche a Millie di farle da cavaliere e Millie mentendo dice che vuole che sia Edward ad accompagnarla nel suo debutto in società. Devo dire che questa mossa di Millie non è stata molto onesta, sai che Edward è innamorato di te e lo stai usando solo perché devi trovare una scusa per allontanare Arthur. Millie fa per scappare via, Arthur la raggiunge e quindi abbraccio da dietro uguale, identico, spiaccicato a quello tra Candy e Terence. Arthur poco dopo si recherà a fare visita a Sara trovandola nuovamente moribonda a letto. Sara dice ad Arthur di badare a Millie se dovesse succederle qualcosa e a quel punto Arthur comunica la sua decisione al fratello. Sarà di sostegno a Sara per tutta la vita. Badate bene, qui non parliamo di sentimenti ma c'è proprio una sorta di senso del dovere come se Arthur decidesse di assumere su di sé questa responsabilità senza che peraltro nessuno glielo abbia chiesto e rinunciando di fatto anche ad avere degli eredi perché viene detto chiaramente che Sara non potrà avere figli. Questa scelta ricalca pari pari la situazione che si viene a creare tra Terence e Susanna Marlow. Non ve la sto a spiegare perché ormai la conoscete già a memoria. C'è anche un altro fatto che colpisce. Arthur esprime proprio lo stesso concetto espresso anni addietro da Terence. Solo facendo felice Sara potrò rendere felice Millie, dice Arthur. Terence invece al teatro di Rockstown pensa, come posso far felice Candy se non riesco nemmeno a far felice Susanna? Questo ricalcare in modo quasi snervante situazioni già emerse nel manga di Candy Candy. Personalmente lo trovo il punto di debolezza di questa storia. Inoltre l'autrice Yoko Anabusa non riesce minimamente a replicare la bellezza della storia di Candy perché i suoi personaggi continuano a risultare confusi, senza un obiettivo, succubi degli eventi, sono molto diversi dai personaggi della storia di Candy. A me comunque sembra, leggendo tra le righe, che anche Arthur abbia soffocato i suoi sentimenti nei confronti di Millie. Qui l'unico personaggio deciso è Edward che ama Millie dall'inizio alla fine. Colpisce per esempio il fatto che Arthur non dica mai esplicitamente a Sara ti amo, ma sempre solo io ti sarò di sostegno, anche se a un certo punto pare esserci la svolta che dovrebbe farci capire che i suoi sentimenti sono sinceri, perché quando Arthur va dal nonno di Sara per chiedere la sua mano dice chiaramente io amo Sara e Millie ascolta di nascosto quella conversazione. Quindi la questione dovrebbe essere chiusa qui. La cosa comunque non mi convince granché, ma almeno le parole fatidiche in qualche modo sono state pronunciate. E dunque riusciamo anche a vedere il matrimonio tra Arthur e Sara. Vediamo Arthur comunque sereno e in pace con se stesso per la scelta che ha fatto. Ha trovato un equilibrio in cui la sua decisione prende in mano le redini degli affari della famiglia ed è consapevole probabilmente che presto o tardi Millie si accorgerà che Edward è la persona giusta per lei. Millie infatti pian piano comincia a maturare dei sentimenti più romantici nei confronti del secondo fratello Brighton, anche se più volte farà dei paragoni davvero odiosi del tipo Oh Edward, i tuoi capelli brillano come loro, proprio come quelli di Arthur. E Edward sempre paziente. Di lì a poco anche il mistero del bacio che Millie ricevette da bambina viene chiarito perché è proprio Edward a dirle che era stato lui a baciarla. Millie dice così definitivamente addio al suo primo amore e ricambia il bacio d'amore di Edward. Poco dopo Millie debutterà in società accompagnata da Edward concludendo così la nostra storia. Insomma, alla fine possiamo dire che era Edward il suo vero principe o forse no? Ditemelo nei vostri commenti. Nel 2009 l'autrice Yoko Anabusa comincia su una delle riviste di Shodensha la serializzazione del sequel della storia di Millie. Il manga in questione si chiama Lady Rin e riprende la storia da subito dopo il debutto in società di Millie. Sarah e Arthur si sono sposati, Millie vive con loro a casa Marble, mentre il nonno, duca di Warbone, vive con la viscontessa Magdalene e il piccolo Charles, figlio del defunto George e di Magdalene. Millie è impegnata negli allenamenti per le Olimpiadi mentre attende in paziente che Edward le chieda di fidanzarsi ufficialmente con lui. Entreranno in scena nuovi personaggi, un avvenente allenatore che seguirà Millie per farle scalare le vette sportive, ma anche un'arcigna prozia di origini inglesi che ha vissuto in America e che non vede di buon occhio il fidanzamento di Edward con Millie. Non sono riuscita a trovare altro su questa storia che pare sia stata lasciata in sospeso per via della interruzione della pubblicazione della rivista. In ogni caso dovrebbe concludersi con Arthur, marito di Sarah, che dopo gli innumerevoli impegni di affari si deciderà a riprendere le gare di equitazione e con Millie che viene scelta come riserva alle Olimpiadi, magra consolazione. Alcuni anni dopo un nuovo manga, Rins Children and Peter Pan, vedrà come protagonisti i due figli gemelli di Millie e Edward, George e Diana Brighton che hanno circa sei anni e che si recreranno in Giappone insieme allo zio Charles che ha 13 anni alla ricerca di Peter Pan, in un viaggio all'insegna dei sogni e della fantasia. Millie in questo manga ha 25 anni quindi si è sposata con Edward all'età di 19 anni circa. Edward è riuscito a realizzare il sogno di creare un ranch tutto suo, Sarah e Arthur sono ancora bellissimi e sono zii premurosi per i due gemelli. E questa dovrebbe essere dunque la conclusione davvero definitiva della storia di Millie, a meno che l'autrice non sforni a distanza di anni un nuovo sequel. Bene, io per oggi mi fermo qui, aspetto come sempre i vostri commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!